Ciao Filippo, anche questa volta sei stato votato gigolo dell'anno. Gli appuntamenti di oggi sono Ilenia alle 17 e Caterina alle 22. Ciao. Ciao piccoli. Come una gramella? Guardi avanti! Considerando l'operazione, il suo corpo ha risposto alla grande, se non fosse per alcune conseguenze particolarmente importanti. L'importante è che sei vivo. Ti dirò, oh, quella qualcosa secondo me è anche migliorata. L'importante è che sei vivo. Ma mi trovi così tanto diverso? Filippo. Aiuto! Sei un altro. Ciao. Ciao piccolina. Dammi un'altra possibilità. Mandami da Max. Non sei qui per diventare mio amico, ma mio discevolo. Anna, gradirebbe del vino. Cosa ordini? Del piano. No. Allora, che bevecchianti? Cinzia. Cazzo cinzia. Tu sei un fiore puro. Nessun uomo potrà mai toccarti, capito? Jamas. Perdonate. Mai innamorarsi di una cliente. Te va a matar. Che significa matar? Che te uccide. Con i mazzetti. Opla, venuto. Tu profannaste, mija. Io te mato. Mattami. Ah no, non te mato. Mattami. E dice matami come che poi io non lo vado. Sono meglio bionda? Sì. E allora Bruna stava male? È difficile. Come? E allora Bruna stava male?